in un antico paesino sopra una montagna e invece no era semplicemente un tipo di spalle con un elmo molto ficcante abbiamo questo è l'eroe Formantrainchito Formantrainchito è l'eroe nazionale del paesino di in provincia di Belluno era fortissimo, sapeva girare la frittata usando il gomito e 77 batterie della Duracell senza la Duracell non funziona quest'eroe si combatte a lungo e largo per conquistare il cuore della principessa la principessa era veramente la donna più sexy di tutto il villaggio infatti il re si ingrifò tantissimo finché non si trasformò in un grifone vero e proprio iniziò a volare a fare caos, distruzione, panico, paura e si trasformò poi in una lumaca successivamente accoppiandosi con un'altra lumaca nel documentario che avete già visto in precedenza fine non è vero